Un bambino fugge nella notte e un manoscritto anonimo viene lasciato sulla porta di una casa editrice. Una storia misteriosa che si scrive da sola interagendo con i personaggi della narrazione e infine l'amore, come un ponte senza tempo che prova a compiere il miracolo in un finale tutto da scrivere. E' questa la sinossi dell'ultimo romanzo pubblicato dalla Masciogli Edizioni, all'ombra della neve, dove finzione narrativa e realtà trovano punti di corrispondenza in questa storia senza autore, avvolta nel mistero di una genesi che l'editore Alessio Masciogli da mesi sta provando a risolvere, cercando di dare un volto e un nome a uno scrittore ancora senza identità. Era una notte di agosto e io tornavo a casa da una cena, ho trovato questo pacco completamente anonimo, si era sigillato e c'era solo scritto pubblicami con l'indirizzo della casa editrice. Ho aperto, ho iniziato a leggere, ho scoperto questa storia meravigliosa, ho fatto un post su Facebook dove chiedevo di condividere ai miei amici per cercare di scovare l'autore, l'hanno condiviso in 300 ma l'autore non è uscito, così ho deciso di pubblicarlo e per il primo anno i diritti rimangono congelati in casa editrice e se l'autore non esce li daremo in beneficenza, altrimenti l'autore, ma vorrei dire all'autore che già quasi 900 copie sono state vendute in prevendita, quindi. Questo libro racconta appunto un ragazzo di 12 anni che consegna un manoscritto anonimo in una casa editrice che si chiama Piccoli Sogni e da lì parte tutta una storia straordinaria di magia, d'amore, alla ricerca appunto di chi è che ha consegnato questo manoscritto e come accade nel libro anche noi come casa editrice stiamo cercando di scovare, di ritrovare questo autore misterioso. All'autore chiedo di palesarsi e in casa editrice, anche tramite mail, tanto la maschile edizione si può trovare ovunque, perché voglio stringergli proprio la mano e complimentarmi con lui perché questa storia è magica, è bellissima. E tra l'altro c'è anche un po' di atmosfera natalizia in questo libro? Sì, perché il libro è ambientato da ottobre fino a Natale, a Natale poi l'apoteosi si chiude il libro, si capisce chi nel libro ha consegnato il manoscritto, ma noi nella vita vera non sappiamo chi è questo autore. Il riscontro del pubblico qual è stato? Qualcuno l'ha letto perché il libro è uscito due giorni fa e si è innamorato del libro, lo sta condividendo. Quello che ci tengo a dire è che in un'epoca dove tutti vogliono apparire, questo autore ha scelto di rimanere misterioso e questa è già una magia, è già una cosa bella. Il messaggio principale è ritrovare l'entusiasmo, non smettere di amare e credere soprattutto nell'amore. In un periodo sterile come quello che stiamo vivendo tutti dobbiamo rallentare un po' e rinnamorarci. Questo libro secondo me compirà veramente questa magia nei lettori, io sono sicuro.